Ad Adrano si comincia già a respirare aria di Carnevale 2024, il primo dell'amministrazione comunale in carica che si candida a raggiungere i livelli del Carnevale siciliano dei primi mandati del sindaco Fabio Mancuso. Ancora nulla di stabilito in maniera ufficiale per quanto riguarda il cartellone dell'edizione 2024, ma circolano già le prime indiscrezioni sugli artisti e sulle sfilate. La grande novità di quest'anno è il ritorno dei carri. Ci saranno sia quelli allegorici che quelli infiorati in programma, anche i gruppi in maschera che nel passato hanno rappresentato il fiore all'occhiello del Carnevale siciliano di Adrano. Con i gruppi e i carri tornano anche gli artisti di un certo livello. Secondo indiscrezioni nell'elenco degli ospiti ci sarà LDA, il giovane Luca D'Alessio, che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime edizioni del Talente Amici di Canale 5, oggi amatissimo dai giovani. Il Carnevale di Adrano ospiterà anche Roipaci e Aretusca, spettacolo assicurato con il trombettista siciliano Grande Trascinatore sul palco. La guida del Carnevale siciliano sarà affidata ad un trio di presentatori di tutto rispetto. Con la brava Sara Putrino ci saranno infatti anche Salvo Larosa e Cristiano Di Stefano. Nella programma del Carnevale siciliano di Adrano anche eventi dedicati agli anziani e ai più piccoli. Per quanto riguarda i bambini ovviamente c'è grande attesa per l'edizione 2024 di Mascherina, lo storico concorso in maschera per i bimbi ideato dalla nostra emittente. Diventato ad Adrano l'evento legato al Carnevale più atteso da bambini e genitori.